Avete comprato un nuovo PC per giocare, ora però dovrete trovare un monitor che vi faccia entrare nel vivo dell'azione. Ve ne suggerisco uno tra poco, qui su Tech Princess. Questo mostro che state vedendo si chiama AG352QCX ed è realizzato da OC, appartiene alla serie Agon e come potete vedere è curvo. Lo so, probabilmente starete storcendo il naso, insomma, perché dovreste mai comprare un monitor curvo invece di uno normale? Semplice, perché preserva la vostra vista. Questo display da ben 35 pollici è progettato in base alla conformazione dell'occhio umano. La curvatura vi permette di spostare facilmente lo sguardo sulla superficie dello schermo senza affaticare la vista. La curvatura inoltre permette di immergersi nel vivo dell'azione, complice anche l'insolito formato 21 noni. Questo monitor AOC Agon è quindi più lungo rispetto ad un monitor normale, pur mantenendo la stessa altezza. A colpire però non sono solo la curvatura ed il formato. Questo monitor AOC Agon è infatti caratterizzato da un design molto aggressivo, con linee essenziali ed un look futuristico. Lo stand è realizzato in metallo, le cornici sono molto sottili e la parte inferiore è costellata di LED, di cui potete scegliere il colore e l'intensità. Attenzione però, tutto questo richiede dello spazio. I 35 pollici del monitor occuperanno gran parte della scrivania, così come la staffa che sorregge lo schermo. Quest'ultima però vi permetterà di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione del display, così da adattarlo alle vostre esigenze. L'unico vero difetto a questo punto è il peso e un po' anche l'ingombro. Parliamo di circa 12 kg che non sono particolarmente semplici da spostare e da sollevare. Questo gigantesco monitor è però perfetto per i videogiocatori. Il display infatti usa la tecnologia Adaptive Sync con una frequenza di aggiornamento di 200 Hz, per eliminare eventuali ritardi e le possibili distorsioni dell'immagine. Sono inoltre disponibili una serie di profili preimpostati, pensati per adattarsi a tipi di giochi differenti, come gli sparatutto e i giochi di corse. Ovviamente potrete usare AOC Agon AG352QCX non solo per giocare ma anche per lavorare. L'immenso schermo a vostra disposizione è infatti pensato per ospitare diverse finestre e fogli di lavoro. Niente poi vi vieta di utilizzare il monitor per godervi un buon film, a patto però che siate da soli a guardarlo. Ebbene sì, perché questo monitor è progettato per essere utilizzato da una sola persona alla volta. Direi che anche per oggi è tutto, io vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!